ma spiegatemi dove cazzo bisogna andare adesso cosa abbiamo qua dei morti no non importa procediamo ancora fintemi dove cazzo bisogna andare adesso merda umane dove siamo qua dove cazzo siamo arrivati ma tanto che florido per sente non lo fare mai più chissà dove cazzo si è cacciato dunque l'unica cosa che ci rimane da fare ed io ragazzi non mi voglio spaventare sarà quello di rovistare dentro questa vasca proviamo non mi fare spaventare te lo dico prima abbiamo delle bolle quindi c'è qualcosa scultura di legno dunque non c'è un morto ma c'è una scultura di legno abbiamo anche qualche altra cosa che cazzo è sta cosa Dio solo sa la natura di questa melma disgustosa non credo che lo sappia comunque abbiamo preso questa scultura di legno e vediamo dove no cazzo bastardo no cazzo bastardo io lo sapevo sei tornato che ti no cazzo mi mi che non cazzo mi 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 mi